Buongiorno a tutti, oggi abbiamo nel salotto di Sorrisi Live un ospite pazzesco, un ospite che abbiamo già avuto qualche mese fa perché a quel tempo c'era un best of del suo programma che veniva mandato in onda, mentre invece adesso siamo a ridosso della messa in onda di una nuova edizione del suo programma, io sinceramente non mi ricordo se gli davo del lei o del voi o dell'essi perché questo è un personaggio veramente super, comunque io intanto ve lo presento poi lui mi dirà come lo posso chiamare, signore e signori è con noi Roberto Bolle. Eccoci, ciao a tutti, grazie ancora dell'invito, direi che ci diamo del tu, così semplifichiamo. Grazie mille, per me è un onore ma tutte le volte insomma me lo devo sentire dire perché davanti a una star di la tua grandezza insomma sono un po' come dire, mi sento un po' sotto pressione. Allora Roberto, noi c'eravamo appunto sentitico che era stata data, era stata fatta un'edizione speciale dei tuoi Danza con me che era andata in onda in prima vera. Adesso invece, dopo domani, il primo gennaio, il prima serata su Rai 1 va in onda una nuovissima puntata, nuova di Zecca di Danza con me che sta diventando una tradizione di Capodanno come il concerto di Vienna praticamente o come il concerto di di questo. Siamo arrivati alla quarta edizione di Danza con me quindi è un appuntamento che oramai entra nelle case degli italiani ed è un appuntamento che sempre di più mi dicono che è atteso dagli italiani e credo che sia un bellissimo modo sinceramente per iniziare il nuovo anno con una serata fatta di bellezza, di danza, di arte, quindi qualcosa veramente di bello che fa bene al cuore, che fa bene all'anima e specialmente è certo perché siamo a Milano, io almeno sono qui, non so dove sei tu. A Milano, a Milano anch'io. E quindi purtroppo c'è questa colonna sonora che ci perseguita, speriamo che il 2021, il 2021 diminuisca o si azzeri questo problema. Speriamo, guarda. Per fortuna c'è un programma come il tuo che è un programma dove c'è la bellezza ai massimi livelli, anche l'allegria molto perché è un programma allegro e la cosa bella, se posso dirlo, da direttore di un giornale familiare, popolare, dal giornale più letto e più venduto in Italia è che la danza che è percepita, almeno era percepita prima di te, come qualcosa di un po' elitario, è invece diventata una cosa così popolare, grazie a te, che fa degli ascolti mostruosi. Sì, devo dire che hai perfettamente ragione, nel senso che la danza sta veramente entrando nelle case degli italiani in una maniera diversa ed è quello che cerchiamo di fare con questo programma, quindi di declinare la danza attraverso tanti ospiti speciali, quindi è chiaro che ci sono tanti brani di danza classica, contemporanea, con stelle, mie partner, pene balline della scala, come Nicoletta Manni, come Dirna Toppi, come la Compagnia dell'Opera di Roma, però ci sono tanti volti amati, conosciuti, apprezzati dal grande pubblico, come Vasco Rossi. Ecco, ecco, eh, Vasco, cioè, come hai fatto a convincerlo, perché Vasco è un po' un orso e poi non so neanche come balla, lui balla, lo farai ballare, lo farai cantare, cosa, come l'hai intortato. Guarda, no, guarda, ti devo dire con grande sincerità che Vasco è stato veramente felice di venire, è stato super disponibile e molto generoso. Lui, appunto, poi mi ha detto, appena ci siamo incontrati, mi ha detto, a me la danza piace, io l'apprezzo, sono veramente felice di essere qui, ti stimo come artista, faremo una cosa meravigliosa. E così è stata, perché c'è stata una grande apertura di cuore, una grande generosità, come grandi artisti sanno fare, sanno essere. E quindi ci siamo trovati in un punto di incontro tra i due mondi che apparentemente sono così lontani. Ebbene, è uscito fuori qualche cosa di veramente magico. Lui balla, sicuramente come fa nei concerti, a suo modo si muove, ci incita e molto partecipe di questo pezzo. Canta questa nuova canzone meravigliosa, che sentirete tutti il primo di gennaio. Io, appunto, l'ho già sentita perché l'ho interpretata tante volte ed è veramente molto molto bella. Sicuramente ve ne innamorerete come l'ho fatto io al primo ascolto. Si vede che hai anche l'anima del giornalista perché hai fatto lo scoop dell'anno, cioè la nuova canzone di Vasco che nessuno ha ancora sentito, tu la fai sentito. Esatto. Ti invito tantissimo, anzi forse ti saluto adesso perché veramente è uno scherzo. È proprio così, è un bel colpaccio come potremmo dire appunto perché avremo tanti, vuol dire, lui ha un pubblico grandissimo e quindi questo per noi è uno strumento molto importante per portare tutto questo pubblico verso una trasmissione di danza, una trasmissione così anche raffinata, ma vogliamo veramente allargare il più possibile questo pubblico rendendo la danza popolare e lo facciamo con lui, con questo scoop, con questa prima assoluta e con tanti altri ospiti. Una canzone d'amore buttata via si chiama poi, no? Una canzone d'amore buttata via. È l'unica cosa che so, ma già il titolo è pazzesco secondo me perché c'è l'amore... No ma guarda, la sentirai e veramente è bella, è bella e è sua, ti apre il cuore. Al primo ascolto veramente sono quelle canzoni che entrano dentro e che secondo me sarà subito un grande successo e sarà veramente amata. È stato molto bello questo, avere anche una canzone così preziosa da portare al pubblico, da donare il primo dell'anno, subito con i fuochi d'artificio. Senti, il programma come è strutturato? Diciamo come i precedenti, quindi ci sono dei narratori, dei conduttori, non so come chiamarli. Sì, esatto, ci sono dei conduttori che quest'anno sono in tre. Praticamente c'è Francesco Montanari, Stefano Fresi e Miriam Leone, quindi loro costituiscono il trio di conduzione, sono attori straordinari. Devo dire che mi è molto piaciuto collaborare, lavorare con loro perché hanno tanti registri, da quello più drammatico a quello più divertente, ironico, fanno delle gag comiche, Stefano, Francesco e anche appunto con Miriam veramente esilaranti, molto divertenti ed è un bel fil rouge che ci segue un po' in tutta la puntata, quindi questo intercalare con appunto la loro punteggiatura proprio, una conduzione che è molto scritta, si rifà un po' a quella della televisione passata, magari degli anni sessanta, è molto molto bella, molto ricercata. Senti, ma quando sono... ma quando sono... ah scusa, no finisci, finisci. No, no, stavo dicendo anche gli altri ospiti. Adesso, adesso me li dici tutti perché così ci prepariamo per appunto dopo domani sera, ma ve lo saprei una cosa, ma anche attori come loro, no? Come dire, abituati, ma davanti a te hanno un po' di timore reverenziale oppure... cioè te ne accorgi tu di questo oppure... Sì, me ne accorgi, no, me ne accorgi, me ne accorgi ma perché li porto in un mondo che non è il loro, quindi loro è ovvio che sono bravissimi in tutto quello che fanno, quando vengono in un mondo un po' così misterioso e poco conosciuto come il mio, dove non sono mai andati e tu un territorio veramente nuovo praticamente per quasi tutti questi... questi ospiti che invitiamo e devo dire la bellezza è che si mettono in gioco, è molto bello vedere come... come giocano, come riescono a creare questi momenti così speciali che poi ogni volta ci inventiamo con tutto il gruppo autorale, riusciamo a trovare delle maniere diverse anche per farli conoscere, per far conoscere degli aspetti diversi di loro, per trovare dei nuovi modi per intrattenere il pubblico in maniera sempre molto elegante. Senti, allora è il momento anche di svelarci qualche altro ospite che verrà a farsi, diciamo, a essere col timore reverenziale. Guarda, allora, di altri ospiti abbiamo Gali, che anche lui appunto è un'altra ospite straordinaria, un'altra commissione incredibile, poi Michelle Unziker, lei straordinaria Michelle, bravissima, è una super professionista, Michelle, che si mette in gioco ma vuole essere sempre al meglio, quindi si è messa, ha studiato i passi, la coreografia, perché facciamo un medley musicale con lei, anche impegnativo, quindi ci siamo molto divertiti a ballare e cantare insieme. Lei è molto svizzera, sì sì sì, quando fa una cosa la deve fare bene, precisa, guarda, è stata incredibile. Ma penso che per un perfezionista come sei tu, che sei proprio maniacale nella perfezione, come deve essere il più grande ballerino del mondo, ci sei trovato bene, quindi, no? Magari rispetto a qualche cosa è proprio... Sì sì sì, no, benissimo, perché apprezziamo proprio questa voglia di fare le cose fatte bene. Quando prendi un impegno, anch'io sono così, cerco di fare il massimo di quello che posso, poi che venga bene o male, però so che ho dato il massimo. E poi abbiamo ancora altri due ospiti, esatto, che sono Dio Dato, che è appunto grandissimo, che come anche poi diciamo in trasmissione, il 2020 ha vinto veramente tutto, da Sanremo al Davide Donatello, all'evento all'Arena di Verona, e Fabio Caressa, che è appunto telecomista, che faremo qualche cosa di molto particolare insieme, un esperimento molto interessante con lui. Ma tu non sei uno sportista? Unendo la danza e il calcio. Guarda, non veramente, lo seguo poco, nel senso sono giuventino, già in famiglia e avevamo tutti giuventini. Nessuno è perfetto. Nessuno è perfetto. Almeno per me, io sono proprio un altro tipo. Meno male ti ho trovato un difetto, guarda, non credevo di... No, ne ho, ne ho. No, non credo. E quindi Caressa, ma veramente, mi immagino una serata di fuochi d'artificio, quelli che non si possono praticamente fare la sera prima. Quelli che non si possono fare fuori, li faremo lì, scoppiettanti. No, perché ci sono tanti veramente numeri molto divertenti. Con Fabio faremo una telecronaca veramente di un balletto. A suo modo, come sta a fare lui, che oramai è entrato, voglio dire, nelle case di tutti con questo suo modo molto particolare. Anche di fare la telecronaca bene, ci divertiremo a farla insieme per avvicinare appunto anche un altro tipo di pubblico e farli conoscere e farli vedere in una maniera diversa un balletto, quindi un balletto classico. Quindi tutti... Lui è molto passionale, poi Caressa, no? Quindi ci sono dei punti di contatto emotivi con la danza, perché la danza è passione, proprio è sentimento, no? Almeno per me quando vedo un balletto, vedo la passione, il sentimento. Oppure anche la tecnica, quindi vedo tante cose diverse, lì quindi ci sarà di tutto. La danza è tutto questo. Infatti mettiamo anche poi un po' in... Paragoniamo anche il fisico e la preparazione, che è quella dei ballerini così atletica, con quella dei nuovi giocatori, perché i giocatori di oggi hanno una preparazione molto diversa, molto più studiata rispetto a quella che avveniva, un po' di anni fa. Quindi ci sono anche dei punti di incontro importanti proprio sulla preparazione atletica. E poi, devo dire, nel programma, oltre a una parte molto divertente, di grande intrattenimento con tutti questi ospiti, c'è anche una parte su cui riflettiamo un po' sulla contemporaneità. Quindi non vogliamo andare totalmente a un'altra parte, ma parleremo del momento storico che viviamo e parleremo anche di tematiche importanti, come la violenza sulle donne, come il Black Lives Matter, quindi l'integrazione razziale. Ci sono anche quelli sempre portati attraverso la danza, che a volte i gesti, il movimento del corpo, serve e fa più di mille parole. È più essenziale e arriva dritto al cuore. Infatti questo programma ha sempre avuto successo e ora io non voglio dire, ma sono sicuro che avrà un grandissimo successo proprio perché riesce a mettere insieme tanti linguaggi per arrivare poi al linguaggio veramente del cuore, a quello della persona che si mette davanti alla televisione ed è per questo che è un programma, se mi permetti, popolare, perché la persona davanti alla televisione, indipendentemente dalla sua formazione, dalla sua storia culturale, dalla sua vita… Dal background, certo. Dal background, diciamo, però si trova di fronte, appunto, sì, certo ci sono tutti anche poi questi modi anche accattivanti, divertenti, però c'è fondamentalmente questo linguaggio universale che è il movimento del corpo legato alla musica che va bene, tutti possono capire… Esatto, tutti possono capire, esatto. Infatti è proprio questo perché la danza ha comunque questa capacità di arrivare con grande forza, con grande intensità, l'intensità del movimento, l'espressività del movimento, di qualcosa che ci viene da dentro e che è viscerale, anche ancestrale dentro di noi, e quindi tutto questo arriva con grande forza. Bisogna sicuramente avere la capacità di declinare la danza anche con delle musiche, con un parlato, i pezzi vengono introdotti, vengono spiegati, si porta al telespettatore a capire e a vedere che cosa sta succedendo, ma questo è molto importante perché non lo lasciamo solo, ma emotivamente lo conduciamo a vedere dei brani di danza, alcuni anche semplici, perché è chiaro che non andiamo a scegliere del teatro metafisico o delle musiche troppo contemporanee, troppo difficili, cerchiamo con intelligenza di prendere qualche cosa che possiamo anche dare al nostro pubblico, ma stimolandolo, arrivando a vedere, a capire, a comprendere e dando soprattutto tante emozioni. Questa è la tua grande forza, perché io ti ho visto diverse volte a teatro, una volta, te l'ho già ricordato, ti ho visto anche ad Agrigento in uno spettacolo incredibile, come tu non eri l'unico a danzare, c'erano anche degli altri grandissimi ballerini, su musiche anche molto moderne, anche molto d'avanguardia, e poi che però facevano, come dire, da specchio a questi templi incredibili, e anche lì, intorno a me c'era naturalmente degli appassionati, ma c'era anche gente, un po' che era venuta a vedere te, perché sei una star, e un po' perché era venuta anche a cercare di stupirsi, e questo è una delle tue doti, la capacità, se posso dire io che non me ne intendo, di saper stupire sempre con il tuo modo di fare spettacolo, quindi c'è molto bene. Senti, invece volevo cambiare un attimo argomento, ho letto nell'intervista su Sorrisi, che tu mangi molto cioccolato, ora spiegami come fai a conciliare il cioccolato col tuo fisico, che è un fisico che se Fidia vivesse oggi, ti chiederebbe un pomeriggio per fare la scultura del secolo. No, guarda, è vero, mangio appunto, come ho detto, tanto cioccolato, forse a volte anche troppo, per fortuna, di solito le ore di allenamento sono tante, è stato un po' più un problema nel periodo del lockdown, perché in quel periodo, devo dire, dovendo stare a casa, chiuso in casa, non potendo fare allenamenti se non in casa, e allora nel periodo proprio più difficile la convivenza in casa col cioccolato è stata dura, però di solito con le tante ore di allenamento il cioccolato fondente a me piace veramente, quindi come ho detto appunto a voi, una mezza barretta, un 50 grammi di cioccolato fondente al giorno, non è poca, ma tu... Non è poca e lo so, hai ragione. No, no, ma sono contento perché sei umano, ma quando eri nel lockdown, alla fine, cioè quindi rinunciavi un pochino più alla danza che al cioccolato, cioè tra le due cose, mi sembra di capire. Eh sì, per forza, perché poi dovendo stare in casa e allora mi sono trovato improvvisamente a dover vivere con la dispensa, il frigorifero, tutti i cioccolati, tutte le altre cose che avevo in casa che di solito, sai, quando sei in teatro, comunque tra le prove, le lezioni, anche se lo mangi, però non è un rapporto così immediato come andare in cucina e aprire il frigo o alla dispensa. Poi mi immagino che tu andavi in cucina danzando per cercare di sbaltire prima qualcosa. Sì, danzando, poi mangiavo un mezzo parrete cioccolato, quindi lo sbaltivo tanto. Ma invece quest'ultimo periodo, devo dire che da settembre in poi, quindi da quando sono tornato dopo la pausa estiva, è stato un periodo molto molto intenso, perché siamo riusciti a settembre a riprendere alla scala con alcuni spettacoli di Bolero. Poi c'è stato, appunto, finalizzato il mio libro Parole che danzano e Danza con me, che questo mi ha preso un tanto tempo, perché la registrazione, la finalizzazione, la preparazione, tutti i mesi dell'autunno, ottobre, novembre e all'inizio di dicembre sono stati tutti presi da questo progetto, quindi è stato un periodo molto molto intenso. Senti, appunto, volevo arrivare a parlare anche del tuo libro. Cosa, cioè, una persona sempre in movimento come te, no? Perché oltre ad essere in movimento quando danzi, sei una persona che gira, allora a parte questi ultimi tempi, ma insomma, c'è un spettacolo qui, il giorno dopo là, poi prende sette aerei per andare in un altro posto, eccetera. Com'è che trova, diciamo, sia il tempo, ma quello posso capirlo, ma soprattutto la disciplina di mettersi invece fermo, proprio uso la parola fermo davanti, non so, a un computer, a una pagina, eccetera, a scrivere, cioè, come, come, sembra quasi un po' una contraddizione, no? Cioè, la persona che... E' vero. E poi invece... Devo dire che, infatti, il libro è nato e si è formato proprio durante il periodo del lockdown, quindi nei mesi di marzo, aprile, maggio, c'è stata tutta la parte di mettere giù tutti i testi, di riguardare, di scegliere le foto, è stato un lavoro molto lungo che ha coinciso, per caso, perché eravamo partiti a gennaio, febbraio, con quest'idea di fare il libro e per caso è arrivato durante questo periodo, mi sono trovato a caso, ho avuto l'opportunità di lavorare ai testi, lavorare alle foto e di preparare questo libro proprio per... che fosse pronto per l'autunno. Dall'altra parte, devo dire che viaggiare comunque mi manca veramente molto, una delle cose che mi mancano di più e sono proprio i viaggi, il fatto di andare in altri paesi, di vivere altre esperienze, di aprirmi, di andare a vedere delle mostre, dei cinema, ero qualcosa appunto a cui ero così abituato e spero nel 2021 che potremo ritornare almeno un po', sicuramente magari non in maniera totale, ma almeno un po' alla normalità a cui eravamo abituati prima. E senti, io spero proprio che anche il tuo il tuo programma televisivo sia di buon auspicio, che sia proprio l'inizio di un anno, di un anno. E questo, guarda, quello che, soltanto, quello che, che questo vuole essere un messaggio per me di speranza è di iniziare veramente il nuovo anno con un messaggio di bellezza e secondo me non c'è nulla di meglio, anche come auspicio proprio di fare entrare nella nostra vita intorno a noi un po' di bellezza, di poesia, di magia e il teatro e la danza e lo spettacolo questo possono farlo. Va bene, quindi a parte il cioccolato abbiamo bisogno di cose di questo tipo secondo me perché il cioccolato nutrire lo spirito nutrire lo spirito che il cioccolato un po' lo nutre secondo me perché un po' sì anche secondo me però non basta, non basta assolutamente. Roberto, allora io ti ringrazio primo perché mi hai ripermesso di darti del tuo. secondo perché secondo perché i lettori di sorrisi sono pazzi di te non sai le reazioni che ci sono state anche alla precedente diretta ogni volta che facciamo un articolo su di te arrivano arrivano lettere e sono tutti e poi ti ringrazio per questa chiacchierata bellissima e per tutto quello che ci hai raccontato e quindi io spero che tu non sia pentito di avere fatto una seconda chiacchierata con me e che magari una fra qualche mese ci troviamo per un'altra per un'altra chiacchierata facciamo no guarda volentieri grazie mille perché è sempre un sempre un piacere e so che appunto sentire anche questo affetto questo amore questo apprezzamento da parte tua e di tutti i lettori di sorrisi è veramente molto molto bello perché quello che io cerco alla fine è di arrivare al cuore delle persone e di coinvolgerle di far sentire un'umanità e non una distanza una vicinanza quindi avere questo feedback da te e dai lettori mi fa davvero piacere perfetto allora io la prendo come una promessa per un'altra chiacchierata assolutamente ci sarà anche la possibilità che la chiacchierata non sia così nelle case separate ma magari in un posto dove ci troviamo più vicini grazie ancora grazie mille Roberto buon anno buon anno a tutti con il cuore dovrebbe dire una parolaccia per il tuo programma di dopo domani sera ma non la dico è stata tutte e due merda ti può dire merda 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 noi lo diciamo sempre a teatro ma sì infatti infatti merda e quindi grazie ancora ringrazio Roberto Bolle e ricordo che Roberto Bolle sarà anche non solo in televisione ma l'ho trovato anche sul numero di tv su di sé canzoni in edicola mi faccio un po' bello anch'io perché c'è una magnifica intervista in cui svela non solo del cioccolato ma dell'acqua della quiche di tantissimi cose che sul palcoscenico invece non si vedono e ho detto tutto grazie ancora Roberto grazie mille ciao 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 ciao